Eccoci qua, benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Castiglisi nella diretta di oggi. Siamo a Trani e siamo in un nuovissimo negozio di alimentari basato sulla vendita di sottolio e sottacetti sfusi. Questo si chiama La Conserva, la conserva di Nicola Fatone in via Montebello numero 31 a Trani. Ecco qui trovate i pomodori secchi per esempio, possiamo notare anche del riso, dei legumi, dei sottoli, olio di garantino. Quello che insomma vedete dalle immagini potete già commentare da solo, però potete acquistare in modo sfuso. Quindi sottoli, sottacetti, qui vediamo cappe di qualsiasi misura, poi cipolline, ci sono anche i funghi, funghetti, champignon, quelli tagliati. Poi abbiamo anche tantissime specialità di vino, tantissimi tipi di snack e molto altro. Legumi, spezie, frutta secca, olive, tutti al 100% naturali. Quindi trovate per esempio i surimi, ecco questi sono strepitoso, gamberoni, quelli sottolio, lampacioni, insomma li conoscete. Poi le olive, qui abbiamo anche dei carciofi, quelli dalla nonna, quelli tagliati alla brace. Poi ecco qui sono quelle olive, quelle classiche, le baresane. Poi ci sono specialmente, questi sono i famosi funghetti, le olive, quelle piccanti. Poi ci sono anche quelle nere, quelle insomma sono conosciutissime. Ecco, ve le inquadro così potete guardare. Qui abbiamo anche dei cetriolini che sono sempre sottacentro. Poi abbiamo tante, tantissime specialità come le alici marinate, le alici quelle sottolio. Qui abbiamo anche i paponi, insomma le olive denocciolate. Che altro vediamo qui? Qui abbiamo anche dei carciofini. Qui abbiamo tantissima frutta secca. Così eventualmente la domenica mattina se dovete fare un pranzo, come si dice, invitando molti amici, potete farlo tranquillamente andando dalla conserva. Qui vedete anche, ci sono anche salse. Ecco, questo è importante perché se dovete condire, dovete fare qualche bel preparato potete farlo. Poi ci sono anche biscotti tradizionali, biscotti integrali, taraldi, quelli ai cereali, quelli senza, come dire, farina, prodotti anche tipo le frise. Questi sono anche integrali. Poi abbiamo anche questo pane d'altamura strepitoso che possiamo ricordare a tutti quanti voi di passare dalla conserva. Qui abbiamo anche vari prodotti senza glutine per gli intoleranti alla farina e tanti altri prodotti come per esempio le conserve. Ecco, queste sono fatte ovviamente per voi, preparate per l'occasione del caffè che potete acquistare, caffè Borbone. Poi ci sono anche, che so, vediamo un po' dove ci possiamo spostare in questo momento. Oh, qui abbiamo anche delle mandorle, come abbiamo già spiegato prima, lupini, i famosi salatied. Poi ci sono anche delle buonissime melanzane, quelle grigliate, poi messe sott'olio. Qui abbiamo anche dell'involtino di pomodoro secco. Qui abbiamo anche tantissime spezie come, non lo so, pepe nero, pepe verde, zenzero, peperoncino, pepe rosa e chi più ne ha più ne metta. Insomma, veramente ci sono tantissime specialità. Qui ovviamente siamo all'interno della conserva di Nicola Fatone e adesso è uova, a proposito, se dovete prendere delle uova, delle prugne, prugne denocciolate, quelle sono buone anche per quelle persone che hanno problemi di incontinenza. Ecco, la conserva, 100% natural da Nicola. Vediamo un po' se riusciamo a inquadrare qualche altro elemento dell'attività che ci troviamo in questo momento. Tutto prodotto naturale. Vi ricordiamo, ci sono anche delle farine, ci sono anche queste salse, queste conserve e tant'altro. Ecco, qui sempre prodotti senza glutine. Poi abbiamo anche delle frutte in conserva. Vediamo un po', ecco. Vediamo dove siamo. Ah, qui abbiamo tanti, tantissimi snack. Questo è Nicola. Ciao Nicola. Saluta gli amici. Dai, forza. Saluta gli amici di Facebook. Salutiamo naturalmente il nostro Nicola Fatone, che troverete all'interno. Qui abbiamo anche tanti tipi di vino. Ecco, vedete quanti tipi di vino ci sono. Poi, normalmente, troverete tante altre cose perché, so, a secondo del periodo, potete ovviamente recarvi in Via Montebello, numero 31 a Trani. Noi, naturalmente, vi invitiamo dove troverete tante, tantissime qualità sfuse. Potete acquistarle, come si dice, sfuse. Ecco, qui tutti i tipi di legumi, trafagioli, ceci. Che altro c'è? Lenticchie di tutti i tipi, di tutte le misure, di tutte le specialità. Ecco, questo è il negozio che vi garantisco, vi consiglio. Si chiama La Conserva di Nicola Fatone, a Trani in Via Montebello, numero 31. Per info e contatti 389-586-8213. Mi raccomando, andate perché è un nuovissimo negozio, basato su alimentari e la vendita di alimentari in sott'olio e sott'aceto, sfusi. La Conserva di Nicola Fatone vi aspetta. Ah, visto che ci siete, mettete anche mi piace sulla pagina Facebook. Grazie a tutti quanti voi e vi rimando alla prossima occasione.